Beh, che era arrivato il momento, con questi caldi poi non era più possibile mantenerla all'aperto, quindi anzi, forse forse qualche giorno prima sarebbe stato meglio, quindi ben venga. Cittadini veronesi e turisti si sperimentano stamattina con questa nuova normalità e si cominciano a vedere più sorrisi per strada finalmente. Non c'è più l'obbligo di mascherina all'aperto in determinate condizioni. Qualcuno con attenzione la bassa per respirare meglio, ma c'è chi la indossa ancora perché si sente più sicuro. Quanto è importante un po' di libertà con attenzione anche da questo punto di vista? È importante però prima di tutto dovrebbe esserci il dovere civico insomma di tenerla quando c'è sovraffollamento in caso di necessità all'interno. Anche questi turisti da Israele sono felici della nuova apertura, delusi per l'alto costo in Italia del testo obbligatorio prima del rientro in Israele quando invece dicono nel loro paese per i turisti che lo visitano è molto più economico farlo perché arriva dall'estero. Da oggi quindi un altro passo verso la normalità ma con attenzione il comitato tecnico scientifico raccomanda ancora che le persone debbano sempre portare con sé una mascherina in modo da poterle indossare ogni qual volta si creino affollamenti. Ne è ancora raccomandato fortemente l'uso nei soggetti fragili e a coloro che stanno loro accanto. Continua l'obbligo negli ambienti sanitari, in tutti i mezzi di trasporto pubblico. È necessario continuare a rispettare le disposizioni e i protocolli stabiliti per l'esercizio in sicurezza anche delle attività economiche, produttive e ricreative. Grazie 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 Grazie